Benvenuti benvenuti cari amici siamo BD qui sul nuovo video Naturalmente come sempre ricordo di suggerire il like, iscrivervi il canale, iscrivervi anche il canale di Telegram Oggi andremo a vedere quello che sta avvenendo su Bitcoin ma soprattutto anche all'interno del settore meme Il settore meme che è andato a scaricare in maniera massiva Però attenzione perché è arrivato il primo tweet da parte di Elon Musk proprio su Doge E per cui iniziamo subito Per cui andiamo subito a vedere quello che sta avvenendo su Bitcoin In questo momento prezzo di 63.416 dollari Buono che da action ovviamente noi come sempre partiamo Andando a considerare quello che mensile Andando a considerare quelle che sono state letteralmente ok delle narrative nei precedenti bull market Per quanto riguarda il settore meme abbiamo visto Dogecoin maggio 2021 Poi novembre 2021 Shiba Abbiamo visto Pepe che secondo me è ancora sottovalutato E ora recentemente abbiamo visto Bome che tra l'altro Bome ha scaricato in maniera molto molto massiva e potrebbe essere una grande opportunità Quindi poi ci sarà anche sicuramente un focus per quanto riguarda Bome Ora andiamo a vedere quello che sta avvenendo sul settimanale Perché secondo me la situazione sta diventando molto molto interessante Abbiamo questo double bottom in zona 60.800 dollari Ovviamente vi ricordo anche la media a 20 periodi in zona 55.000 E' il pericolo che non è ancora assolutamente scongiurato Anche se io vi lo dico subito Io per diciamo i mesi a venire sono bullish Ve lo dico subito Anche perché se andiamo a vedere quello che è avvenuto tendenzialmente post halving Post halving abbiamo avuto sempre i skyrockets molto ingenti Ovviamente con vari pump and dump che fan parte Ok la situazione di beat Però potenzialmente potremmo trovarci ancora in quest'area qua Quindi la scalata insomma potrebbe essere molto molto ingente Durante il percorso ovviamente ci sono degli scarichi molto importanti Però come dico io all'interno del QQC Vuoi rimettere via liquidità Quando si va a fare numeri importanti Ok come abbiamo fatto noi Poi ti permette di andare a sfruttare queste grandi opportunità Ho visto che molte persone hanno perso anche 40-50 persone del portafoglio recentemente Dopo insomma i guadagni molto molto importanti Quindi se anche tu ti trovi male in quella situazione Inizia a settore la strategia E' quello che vorrei dirti anche se vuoi Per una volta l'accoglio è gratuita Trovi sotto il link in descrizione Perché in questo modo potrai settare Ok magari una strategia più adeguata anche Alle tue emotività A quelle che è questo mondo per l'appunto Perché l'emotività qui gioca veramente Un ruolo fondamentale Ora andiamo a vedere sui daily Perché la situazione è dedicata Cioè vediamo come beat Per l'appunto a questo double bottom Se andate sotto la media Anche a 50 periodi Quindi questo è un altro segnale Pericoloso che potremmo avere Però dal punto di vista Abbiamo che è ancora un ultimo value Riguardo di zona 58 Sì 80 Quindi potremmo anche andare a prendere quelle zone Ok che sono zone Che beat è capace di andare a prendere Però che cosa mi aspetto Mi aspetto che prima o poi Se andate in questa zona di 68 Bitcoin possa prendere E stare all'interno di questo trading range Quindi potenzialmente Questo potrebbe comunque favorire le alt Per il futuro Perché vi ricordo che ancora le altcoin Non sono letteralmente esplose Dopodichè ve lo mostrarvi anche Quello che sta venendo su 4 ore 4 ore Che secondo me è molto interessante Quindi chi vorrà Tradare in breve Ma riaprire Anche quel che posiziona leva Ovviamente come sempre Nei costi finanziari Nei costi trading Operare sempre con stop loss Però vediamo che rischio E rendimento interessante Guardate qui Abbiamo un potenziale rischio Lo mostro subito Di circa il 4% Ok Quindi in perdita Quindi adeguate anche quelle leva Contro potenziale rendimento Del 16 Quindi il rapporto 1-4 Secondo me è molto interessante Ok In questa fase di mercato Dopodichè Andiamo alle ultime notizie Perché lì c'è stata l'approvazione Praticamente del Bitcoin ETF Ed Ethereum L'applicazione Per quanto riguarda Hong Kong Ok Quindi questa notizia Molto molto importante Infatti c'era stato un piccolo pump Da parte di Bit Ma soprattutto il saldo Ok Di Bitcoin In questo momento Per quanto riguarda Istituzionali È positivo Ok Per questa settimana Comunque sono stati acquistati Ulteriori 2745 Bitcoin Quindi questo fa letteralmente Ben sperare Ok Per quello che è il futuro L'unico che Tra virgolette è andato A potremmo definirlo così Dampare Ok Bit È stato Grayscale Quindi insomma direi Vabbè Anche Vanek Invesco Ma veramente con quantità Di Bitcoin Molto molto piccoli Che secondo me Non vanno a condizionare Il mercato Sicuramente questa Grayscale È già diversa Ok Come situazione Ora vorrei ricordarti Anche se vuoi formarti In maniera gratuita Ok Io ho creato Letteralmente una piattaforma Se tu vai su SamuBeat.com Trovi l'area corsi Ok Vai qui E ti puoi guardare Tre video Per ogni corso In maniera gratuita Quindi direi Un qualcosa di incredibile Vai subito Iscriviti A SamuBeat.com E poi vorrei ricordarvi Anche la super promo Da parte di Bing X Dove praticamente Fino a domani Ok Fino a domani Mezzanotte Quindi avete pochissimo tempo Ti lascio sotto il link In descrizione E praticamente qui Ad esempio Se depositate 100 euro Riceverete Il 10% WSDT in omaggio Quindi veramente Qualcosa di assurdo Promo Veramente Pazzesca Quindi Se vuoi usufruire Questa promo Riservata A community SamuBeat Ti lascio Sotto il link In descrizione Ora andiamo a vedere Un attimo La situazione Ok In interno mondo Crypto Perché Importantissimo Andare a vedere Alcuni elementi Come la Total Che in questo momento 2.24 trillions Abbiamo avuto Guardate qui Un bel supportone In zona 2.16 trillions Vi ricordo 2.16 trillions Che Decretò Poi inizio Il bar market Ok Guardate qui Ci fu questo pump Il 4 aprile 2022 In cui molti Richiamavano Ok Il bull market Ancora a continenza Il bull market Perché tutti pensavano Che bitcoin Andava a 100.000 E poi Tac Crash Quindi questo potrebbe essere Un segnale molto importante Cioè come da qui È iniziato il bar market Da qui potrebbe essere Iniziato il bull Ok Quindi Praticamente Un specchio Che potremmo definirlo Dopodichè Andiamo a vedere Anche quello che invece Sta avvenendo sulla Total 2 Total 2 è praticamente Situazione pressoché simile Cioè se andate a prendere Questo supportone Ok Di 831 miliardi Che ci ha fatto Praticamente Da Sempre da appunto Supporto E abbiamo preso Guardate qui Proprio un Trillions In questo momento Sulla Total 2 Che vi ricordo Implica Tutte le cripto Tranne Ethereum Ok No scusate Tranne Bitcoiner E praticamente Abbiamo visto Che Come Per l'appunto Anche in questo caso Questo pump Decretò poi Il bear market Da qui Potrebbe per l'appunto Iniziare il bull market Quindi in caso di rottura Di 1.27 Trillions Che io già chiamavo Chi da tantissimo tempo Potremmo prendere Tornare E avere Veramente Un bear market Scusate Un bull market Leggendario Ok Questa è un po' La situazione Ora Andiamo a vedere Il settore meme Perché Ragazzi Quando si entra in bull market Bisogna andare a vedere Quei settori più Riscon Ok Che possono dare Maggiore rendimenti Noi sappiamo Noi sappiamo Nel corso della storia Che ha seguito Questo canale Chi da tanti anni Dentro Come parla appunto Con i meme Si fa il numero In questo momento Capitazione di 50 miliardi Quindi insomma C'è stato uno scarico Sì di 20% Generale Ok Sui meme Vediamo Doge Meno 20% Shiba Meno 24% Sistema Dogui Fat Meno 33% Pepe Meno 32% Quindi in generale Ingenti scarichi Cosa che a me piace tantissimo Guardate In che bomb È il meno 40% Quindi attenzione A questa coin Ma volevo segnalarvi Un tweet famoso Storico Di 4 anni fa Praticamente Di Elon Musk Nel quale lui scrisse V controls the meme Controls the universe E ieri Ha fatto Un tweet Pazzesco Io ringrazio Ok Anche il gruppo cowboy Soprattutto Davide Che ha segnalato Questo tweet Vedete come L'unione dei cervelli Aiuta tantissimo Perché io me l'avevo perso Nel quale praticamente Elon Musk È andato a fare Questo tweet Che tra l'altro Quante qui 39 milioni Di visualizzazioni Nel quale C'è Giulio Cesare È un centurione Che ovviamente Elon Musk Nel quale Giulio Cesare Va a dirgli The mainstream media Having to cover Dogecoin As a top 10 Crypto Praticamente Lui dice Elon Devi fare in modo Che le televisioni Tutti i stream media Vanno a parlare Di Dogecoin E la portino Nella top 10 Dogecoin È in top 10 Ma andarla incrementare Quindi attenzione A questa cosa qua E dopo c'è stato Anche questo commento Pinatissimo Ok votatissimo Nel quale praticamente Uno su Twitter Ha scritto He has a wife You know Lei ha Lui ha Scusate Una moglie E tu lo sai Chi ha moglie Probabilmente Shiba Ok Quindi vedremo un po' Che lui succederà Però secondo me Questo video Potrebbe essere Letteramente storia Ok ragazzi Ora andiamo a vedere Quello che Sta venendo Ok Su Dogecoin In questo momento Prezzo di 15 centesimi Quindi anche qui Bel scarico Double bottom Formazione Ovviamente mi piace Tantissimo E quindi secondo me Dogecoin Andrà a riprendere Quelli che sono I vecchi massimi Relativi Di 22 5 dollari 5 Io mi aspetto Almeno a zona 29 centesimi Quindi vedremo un po' Come succede Però secondo me Entrò un totale Di tempo Arriverà Poi Doge Contro Bitcoin Siamo tre anni Ok che aspettiamo Questa rottura Quindi secondo me Dovrebbe arrivare E attenzione Perché quando arriverà Secondo me Molti non sapranno Più cosa fare Quindi io ti invito A studiare La strategia E a capire Ok quello che sta Per succedere Perché secondo me Manca poco Ok ragazzi Manca davvero poco E Ti invito Che se vuoi Anche a pronotare La colga gratuita Perché insomma In quei momenti Ne arrivano tantissime Ovviamente Io non riuscirò A rispondere a tutti E soprattutto Non tutti potranno Se vorranno entrare Dentro il gruppo Cabo Non sarà possibile Te lo dico subito Dopodiché Andiamo a vedere La moglie Quella che secondo me È la moglie Cioè Shiba Che è andato a fare 1800 E guardate qui Proprio 1800 Decretarono Ok nuovamente Il sancimento Ok di questo Bear Market Di Shiba Poi Shiba Non si mosse Prima Per due anni Ora Shiba Si è mosso Recentemente In maniera Diciamo Molto molto potente Addirittura Arrivando a 46 Guardate qui Giro di due settimane Ragazzi Giro di due settimane È successo tutto Marasma Completo Poi Dampone Ovviamente Nel gruppo Cabo Si è andati A prendere Liquidità E poi Abbiamo Scusato Il Dampo Quindi un classico E Quello che vorrei dirvi Secondo me È buona Election Che di Shiba Vediamo se andrà a fare Nuovamente Un double bottom Cosa che mi aspetto Che potenzialmente 1.8 Per poi Ripartire Ora volevo Chiudere con I miei misoli Annex Secondo me Sarà un'altra narrativa Che farà numeri Guardate qui Quanto abbiamo Dampato 5.8 miliardi Allavano arrivati In zona 7.8 miliardi Abbiamo il primo Dog with Fat Bonk Book of Meme Guardate qui 464 milioni Quindi insomma Sono stati bei Damponi Però sta tenendo A livello di volumi Guardate qui È quello che ha più volumi Dopo Dog with Fat Quindi Attenzione Perché anche questi Sono segnali O che comunque È da osservare E volevo proprio Andare a concentrarmi Su Bome Perché Bome Guardate qui La struttura È andata a riprendere Una Innanzitutto C'era stato Questo listing Su Binance Insomma L'aveva proiettato Verso Cosa assurda Che in due giorni Ho mai visto un meme Arrivare in due giorni Su Binance Primo elemento Secondo elemento C'era stato Un bel scaricone In zona Ottomigliasimi e 7 Poi ha fatto un bellissimo pump Perché ci sono volumi Ci sono waves Su Bome E ora siamo tornati In questa zona qua Quindi attenzione Potrebbe essere Una buona occasione I buy Ovviamente come sempre Non sono le conseguenze 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 Che non tutti Riescono a gestire Te lo dico subito L'ho visto Noi facciamo un test psicologico Anche chi entra dentro Il gruppo Coway Quindi Però se vuoi Saperne di più Vi nicole Vediamo che addirittura Bome è andata A prendere la zona Dei 7.1 A me ricorda molto Guardate qui Abbiamo scaricato Da listing Binance Un 76% circa Ok A me ricorda molto La action di Pepe Con questo non vuol dire Che fare uguale a Pepe Ma chi è chiaro Però guardate qui Listing Binance Successivamente Scaricone Di Sì 86% E poi insomma Resta storia Noi sappiamo tutti Io fu il primo Che in Italia Andare a parlare di Pepe Ancora quando ovviamente Non era listato su Binance C'è gente che ha fatto 10x 20x 30x E poi nuovamente Ci sono persone Che hanno rifatto il numero Quindi questo è chiaro Quindi Bome Letteralmente Potrebbe essere la prossima Ovviamente anche qui Poi so già Che la gente Nel caso di ritorno O che in determinate zone Non saprà più cosa fare In classico Quindi ovviamente Struttura una strategia Ma soprattutto Se anche tu Vuoi migliorare Quelle che sono Le tue conoscenze Interno a questo mondo Interno al mondo cripto Iniziare a strutturare una strategia Soprattutto se inizi Ok A fare determinati numeri Ti ricordo Per la notte Colle gratuita Andrò a vedere insieme Quelle che sono le tue esigenze Andrò a vedere insieme Quello che letteralmente Può essere un piano Studiato per te E poi se ci è piaciuto questo video Ti ricordo Di subito il bottone Like Iscriviti al canale E noi Ci vediamo Presto Hasta la vista Hombre